Ciao a tutti, ripresa l'avvicinata perché parliamo sempre di dove conviene dove conviene offerte e negozi apriamo la app e andiamo a cercare questa volta Lidl che qui su YouTube è molto gettonato cerchiamo Lidl c'è ci sono due che scade una oggi e una a 31 vediamo quella che scade oggi non so se riuscirà a far vedere scappi e sapori raffinati della cucina francese tutti i prodotti in offerta torte salate biscotti con ripieno mini gratin tutti a pezzi stracciati molto carini altri prodotti francesi formaggi molto carini che come a me è un golosona altri prodotti da consumare molto carini però scade oggi non so se riuscirò a mettere tutti i prodotti addirittura anche i dolci sia salato che dolci addirittura vini molto molto bello qualità freschezza e convenienza io ci andavo molto spesso con mia mamma adesso il fidanzato porta via un po' di tempo macelleria e pesce se mi interessa la carne più pesce offerte del lunedì dal lunedì 17 settembre a me è quella di 19 quindi è già scaduta la giovedì 20 domenica 23 ah queste c'è ancora ci sono ancora queste offerte qui le fate stampe magari lo vedete offerte settimana le 17 a domenica 23 le offerte della settimana che vi propone questo lo voglio provare è la bevanda di riso per avanti oh perché come è passata il caffè promozioni sul caffè molto buono molto buono anche promozioni per gli animaletti ah segnalava qui su youtube Marzia Mancini che saluto Aura Jolie Eau de Parfum 50 ml a 3,99 lo voglio prendere perché ha detto che è il dupe di La Vie est Belle questo qui a 3,99 lo voglio prendere super marcoli offerte valde solo no ci interessa 20 settembre non ci interessa Esmara capovolge la tua routine quotidiana Esmara by Heidi Klum questa figacciona qui io adoro abbiamo a 4,99 top donna vestito da donna 9,99 sciarpa da donna 7,99 jeggings da donna 7,99 maxi cardica 14,99 carica da donna 14,99 a me piace cioè tipo questo e questi non so mi sembra carino bellino magari collaborare con Lidl con te li vieno a casa 7,99 camicia donna 12,99 jeans super skinny vedete molto carino poi 9,99 pullover 6,99 giubbino 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 c'era già 30 da donna 24,99 7,99 maglia da donna che voglio prendere scarpe con tacco c'erano già ho già viste hanno aggiunto qualche pezzo ma qualche pezzo c'era giù molto molto carino soprattutto i maglioncini mi piacciono un sacco poi la potenza dell'aria tutto per il bricolage molto carino sempre bricolage 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 per l'auto molto bellino sempre per l'auto auto accessori pulizia molto molto carino prodotti v5 qui su youtube spopola per l'auto molto bello poi in cucina praticità e fantasia ecco questo già mi ha conquistato solo per tutto tutto il pasto di piccione piace un sacco per di tutto il pastelloso qui altri affettatrici tutti accessori per la cucina molto molto interessanti poi sempre della collezione smara abbiamo i piumini uomo donna e bambino molto carino molto carini un po' stretti secondo me però molto carino pollice verde se avete la passione per le piante io no super weekend in questo weekend le super offerte è finito il volantino potrei farvi vedere anche non lo so tipo il mio passione molto speriamo che sia penny market questo qui scade mercoledì scade gravi sparmi gravi sparmi gravi sparmi gravi sparmi questo qua che magari è più lungo gravi sparmi di fine mese penny market le offerte gravi sparmi mia parte che compra molto spesso e c'è la collezione degli ortaggiotti questo la posso far vedere chiedete che i bambini no no non la verdura gli ortaggiotti il primo oggi sono questi qui sono carinissimi con 12 e 1,90 potete già prendere se non lo prendete con 18 punti 1 punto ogni 1 punto 1 punto ogni 15 euro rispetto sono carinissimi tipo Simone Limone Giulia L'amore Carlotta L'Azucca Salvatore Cavolfiore mio papà che c'è il sedano sedano no Stefano che è il sedano Lello Ravanello Susi la Susina e Thomas Lannas io ho preso questa Susi da Susi è carinissima c'è la promozione se volete andiamo avanti con il video qui alti gran risparmio se vi può interessare a fare la spesa se vi vuole desiderare la spesa alti sempre gran risparmio tutto aggiornato sul mangiare oh che belli i formaggi hanno segnato la mia infanzia molto molto carini ortaggiotti sempre gli ottaggiotti quelli qua gli ottaggiotti infatti ve lo segnano anche qua ma io ve l'ho detto prima sempre bevande anche su bevande molte offerte io ho un po' riscoperto la Coca Cola ma non l'avevo spesso speciale amici a quattro zampe se come me avete un cagnolino ho un gattino ho un cagnolino che è un po' schifignoso prodotti per la casa casa e persona adesso il fecciatura ha fatto anche l'ammorbidente se può interessare speciale bagno tante idee per gli momenti di relax più o meno ciabatte lo specchio rotante ingangitore illuminazione molto carino questo mi piace lo specchio da trucco fico compare specchio e basta venerdì è stato shock questo non perché è scaduto e basta abbiamo finito anche questo non so se potete vedere quello del mercoledì ho preso la voce ci sono poche cose in offerta e niente questo era dove conviene che potete veramente trovare qualsiasi cosa in offerta tutti i volantini di maggiori negozi molto molto belli e niente spero che il video vi sia piaciuto lasciate un like e un commentino per essere di supporto iscrivetevi al canale ovviamente mando un grosso bacio e ci vediamo in prossimo video ciao 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 ciao